Francesco Cosentino, buongiorno e benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere il suo nuovo libro che ha un titolo molto indicato per i giorni che stiamo vivendo, si è aperto l'anno da pochissimo e si ricomincia o si comincia un nuovo anno, dipende da che cosa si intende nella coniugazione di questi due verbi. Francesco Cosentino, autore del libro Ricominciare e adesso andiamo ad intenderci su che cosa ricominciare. Il sottotitolo di questo libro è Parole buone per il nostro tempo, lo ha pubblicato San Paolo e adesso insieme con il teologo Francesco Cosentino andiamo alla scoperta di questo libro che si compone di circa 150 pagine, quindi una lettura agile e entriamo subito. Francesco Cosentino, nell'immagine di copertina, partiamo proprio da queste immagini perché su fondo nero c'è qualche cosa che ci racconta già questa coniugazione del verbo ricominciare, che cosa ci dice questa immagine? Sì, è uno sfondo nero su cui si staglia appunto l'immagine di una ballerina, di una danzatrice, proprio perché il gesto diciamo così di una ballerina è un gesto di grazia, un gesto grazioso, elegante per sua natura e in questo modo si vuole in qualche maniera anche esprimere quello che è il gesto di Dio nei nostri confronti, nei confronti della nostra vita. Quando Dio opera, quando Dio agisce, quando Dio lo lasciamo entrare nella nostra vita, anche se lo sfondo può apparire nero, anche se l'esistenza che stiamo portando avanti per varie ragioni intime, personali o anche della realtà che ci circonda può essere in qualche modo scuro, ecco questo gesto di Dio, questa iniziativa di Dio nei nostri confronti è sempre una grazia, è un gesto grazioso nel senso proprio anche più etimologico della parola, cioè ci ridona la leggerezza e la grazia di rialzarci, di ripartire e appunto di ricominciare. Lei ha detto poco fa di lasciare entrare Dio nelle nostre vite, ma praticamente che cosa è possibile fare per compiere questa cosa straordinaria, lasciare entrare Dio nelle nostre vite? Forse dovremmo riconsiderare davvero quanto la stessa parola di Dio ci dice, soprattutto per bocca dell'Apostolo Paolo, cioè metterci in ascolto, la fede nasce sempre dall'ascolto e l'ascolto biblico come sappiamo non è semplicemente una questione di udito, noi ascoltiamo tante cose, tante parole, anche tanti rumori nelle nostre giornate, ma ascoltare dal punto di vista biblico significa fare spazio, significa accogliere, significa renderci conto che c'è un altro rispetto al quale possiamo riferirci perché la nostra vita si arricchisca di significati, perché la nostra vita si arricchisca, perché abbia degli input, volendo anche degli scossoni, delle salutari inquietudini, quindi in fondo ascoltare e uscire da se stessi per entrare in relazione. Ecco, forse questo è il primo gesto che noi possiamo compiere per fare spazio a Dio, metterci in ascolto della sua parola, della sua presenza, cercare di cogliere la sua presenza nella nostra vita quotidiana, cercarlo. Ecco, forse questo è un secondo verbo, ascoltarlo, ascoltare, che significa però cercarlo, cercare le tracce, i segni della sua presenza nella nostra vita di ogni giorno. È la nostra vita di ogni giorno che è una corsa continua e pensiamo di avere la nostra vita davvero in pugno, no? E qui andiamo alla prima pagina, alla prima pagina di questo libro che si apre con l'immagine molto nota dei pescatori di Galilea, che loro pescano ma in effetti succede qualche cosa. E che cosa succede, Francesco Cosentino? Sì, la pesca di cui si parla qui non è la prima pesca, cioè il primo momento in cui vengono chiamati, e neanche altri racconti dei Vangeli in cui ci viene narrato in qualche modo il fallimento di certe notti di pesca. Questa è una pesca che accade alla fine del Vangelo, cioè quando Gesù è morto e loro avevano lasciato le reti, la barca, che è un'immagine attraverso cui il Vangelo poi ci dice che avevano lasciato la vita di prima per spommettere sulla promessa di Gesù per sognare dietro a questo Messia una nuova vita. Naturalmente vedendolo condannato alla morte di Croce la delusione è forte. Ed è la stessa delusione che noi sperimentiamo poi per tante ragioni nella nostra vita, quando davvero i nostri sogni si infrangono, non si realizzano, quando tutto ciò che portiamo avanti forse non riesce a darci i risultati in cui avevamo sperato, quando viviamo il dramma della sofferenza, della solitudine, anche della morte. In quei momenti la tentazione è quella di ritornare alla vita di prima, forse di ritornare, quasi di gettare nuovamente, di tirare nuovamente i reni in barca. E quindi questa immagine dei pescatori è l'immagine di chi ormai deluso e sconfitto vuole tornare alla vita di prima. Però bisogna avere una parola importante, su cui lei ha indiciato parecchio, perché questo libro ci propone le parole buone per il nostro tempo. La parola che entra nella vita degli apostoli e dei pescatori era per l'appunto fiducia. Sì, è una fiducia che viene in qualche modo risuscitata, non a caso questo brano poi è un brano che ci narra una delle apparizioni del risorto, è una parola che nel loro cuore, nella loro vita, viene risuscitata da questo rinnovato incontro con Gesù che si presenta sulla loro riva, in questa notte di delusione, proprio per aiutarli a ricominciare, per dire loro che anche nella sconfitta, nel fallimento, Dio è vicino ed è capace davvero di aprire strade nuove nella nostra vita. E penso che questa fiducia di fondo, anche quando è minacciata, quando è ferita, non dobbiamo mai perderla. E in fondo la fede cristiana ci aiuta ad alimentare questa fiducia. Eh, perché ricominciare è sempre possibile, anche quando pensiamo sia troppo tardi. Quindi quello che oggi è sterile, domani invece può germogliare. E quindi è l'importanza proprio che noi entriamo nella coniugazione di questo verbo ricominciare, che non vuole dire conquistare il mondo, vuole dire anche fare piccole cose, perché non è che la nostra missione sia quella di vincere il premio Nobel, tanto per dire una cosa, ma quella di... la missione è quella di essere noi stessi e di ricominciare ogni giorno. Sì, sì, e si tratta davvero di... ecco, volendo usare una delle immagini che frequentemente Papa Francesco ci offre nel suo magistero, ecco, è quella di non trasfinare la vita, di non guardare la vita dalla finestra o seduti sul divano, come ha usato dire qualche volta soprattutto ai più giovani. Cioè, sapere che la nostra vita è una chiamata quotidiana e che attraverso questo piccolo fuoco che riusciamo ad accendere ogni giorno, nelle cose che ci sono affidate, nelle relazioni che viviamo, negli impegni che portiamo avanti, ecco, noi possiamo dare significato e luce alla nostra vita, ma attraverso di noi possiamo dare significato e luce anche alla vita di chi ci sta vicino e quindi essere anche degli strumenti che rendono più bello, più umano, più giusto anche il mondo in cui viviamo. E la parola ricominciare, il verbo ricominciare è molto caro, la tradizione spirituale cristiana, per esempio nel monachesimo è andando indietro nel tempo. Francesco Cosentino, possiamo ricordare Antonio il Grande, no? Che ci ha detto molto, seppure nella semplicità del suo pensiero, sulla parola ricominciare. Sì, soprattutto in quel caso lì è molto, direi molto plastica l'immagine del deserto che evoca non semplicemente la scelta di un silenzio che poi si riempie di dialogo con Dio, non semplicemente la via, diciamo così, di un ascetismo che in qualche modo ci eleva, ma forse evoca, come anche nella Bibbia, momenti e situazioni della nostra aridità spirituale, non solo aridità personale ma anche appunto della società, del mondo in cui viviamo e lì Antonio ci dice appunto come questa ricerca di Dio ci aiuta veramente, per usare un'immagine cara al profeta Isaia, a far fiorire nuovamente il deserto, a vedere questo deserto che fiorisce sempre nuovamente grazie alla vicinanza, all'azione di Dio. Francesco Cosentino, ma la parola ricominciare, il verbo ricominciare, è un verbo che è rivolto a tutti, nessuno escluso, anche alle istituzioni, perché non sono certamente al di fuori. Chiedo a lei, perché lei è teologo e nella Chiesa è molto presente e molto attivo, ma secondo lei in che modo la Chiesa coniuga il verbo ricominciare? La Chiesa, credo che per la Chiesa intesa sia come la realtà del popolo di Dio, che è la prima più importante accezione quando parliamo di Chiesa, sia per quanto riguarda poi le sue componenti anche più, se vogliamo, istituzionali, anche più strutturali, penso che il verbo ricominciare sia soprattutto un verbo, più che coniugato è sempre più una chiamata, è un verbo che ci sta davanti, è un verbo rispetto al quale noi siamo sempre sfidati a non fermare il cammino. Le istituzioni, anche quelle ecclesiali, devono guardarsi bene dalla tentazione di restare accomodate, dalla tentazione del fissismo, del sentirsi arrivate, del ruotare intorno a ciò che è già certo, è già consolidato. Quindi dobbiamo essere sempre in vena di trasformazione, avere il coraggio di cambiare, Chiesa compresa. Assolutamente, credo che la storia della Chiesa ci dice che nonostante errori e ritardi poi questo accade, ne è una bella testimonianza, una lettura se vogliamo anche sincronica di tutti i più grandi eventi ecclesiali come i concili fino al concilio Vaticano II, che sono sempre stati dei passaggi di cambiamento, ma appunto abbiamo citato Antonio il Grande, potremmo citare il grande Magistero dei Padri, la vita dei Santi, sono sempre stati questi dei pungoli che poi, anche se un po' lentamente, anche tra mille difficoltà, hanno portato dei cambiamenti e delle trasformazioni. E credo che oggi la Chiesa, trainata e trascinata anche dalla figura del Magistero di Francesco, e non solo, sia in questo cammino di trasformazione. Tra le parole buone per il nostro tempo, Francesco Cosentino, qual è la parola più difficile da porre nelle nostre vite? Forse in questo momento storico la parola più difficile è la parola speranza, perché sembra che viviamo in un tempo anche una cultura che sono molto disincantati, che hanno in qualche modo ceduto rispetto anche alle grandi utopie, anche a quelle idee che avevano un contenuto utopico, ma era quella sana utopia che poi portava le persone, la politica, le istituzioni, l'impegno civico e anche le religioni a sognare, a costruire un mondo nuovo. Oggi c'è la tentazione nella nostra vita personale, ma in generale un po' nelle nostre società, a vivere alla giornata, a pensare che tutto si possa risolvere nel perimetro ristretto di ciò che consumiamo, del poco che amministriamo nelle nostre mani. E non si ha il coraggio di guardare a lunga gettata, ci manca un po' la lungimiranza, siamo un po' feriti, forse da promesse che non sono state realizzate, si dice che il Novecento è appunto il secolo delle promesse mancate, siamo anche gravati dal peso, della violenza, delle guerre, di tante cose che forse sembravamo aver messo dietro alle nostre spalle che invece si sono ripresentate. E in questo sentimento generale di disincanto, di sfiducia, forse la speranza è la parola più importante, la speranza cristiana che non è il semplice ottimismo di chi spera che domani sarà una giornata migliore, che ci sarà il sole, ma è quella speranza fondata sulla certezza che la nostra storia, benché segnata ancora da molte oscurità, è una storia che è nelle mani di Dio, è saldamente nelle mani di un Dio che ci ama e che la sta guidando verso la sua piena liberazione. E questo libro ci può portare sulla strada del ricominciare per trovare il coraggio di superare questi tempi difficili, forse sono sempre stati tempi difficili, ma oggi in particolar modo. E lei come vede il futuro, Francesco Cosentino, il futuro della Chiesa? Ma vedo un futuro che è un futuro da costruire, è un futuro che come sempre nelle diverse epoche della vita della Chiesa non si presenta, penso, più difficile o più gravoso di altri momenti storici. Il futuro è davanti a noi come un impegno, come una chiamata, ma poi da cristiani noi crediamo anche che il futuro esiste già e ci sta venendo incontro. È il Signore Risorto che ci viene incontro e ci dice che appunto ricominciare, ricostruire, vivere in modo nuovo la nostra vita, vivere nel segno dell'amore le nostre relazioni, vivere l'impegno per la giustizia, per la pace, è ancora possibile. Quindi il futuro c'è e si chiama Gesù, perché Gesù è anche colui che deve venire e il futuro sta davanti a noi come la cosa più bella che possiamo costruire, che non dobbiamo smettere di sognare. Ma secondo lei noi siamo capaci di intendere il valore vero della parola? Oppure oggi come oggi la parola la usiamo tantissimo, no? Soprattutto nei messaggi, nei social e così via, computer, e la parola anche detta. Lei è sicuro che noi la possediamo questa parola? Oppure le nostre parole a volte raccontano il nostro vuoto catodico, come si poteva dire un tempo? Sì, diciamo che non ho molta sicurezza, ecco non sono sicuro di questo, tant'è vero che la scelta del sottotitolo di questo libro vorrebbe anche in qualche modo stimolare una riflessione in questo senso. Credo che se abbiamo una difficoltà nel nostro tempo, soprattutto anche visto lo sviluppo dei social, del mondo digitale, è che nella fretta e nella comunicazione che si è fatta veloce noi utilizziamo le parole spesso in maniera superficiale, talvolta in maniera inesatta, e forse non sempre considerando il fatto che le parole non sono innocenti. La parola può essere una parola che ferisce, può essere una parola che aggredisce, quindi può essere una parola che uccide, oppure può essere una parola che aiuta appunto le persone a ricominciare. A me è piaciuto scoprire in alcuni brani del Vangelo, e alcuni di questi li ho riportati nel testo, che la parola di Gesù è sempre una parola buona, ma nel senso non soltanto di una parola consolatoria, perché la parola buona è anche quella che ci scuote, quella che ci fa sbattere la testa al muro, per intenderci che ci sveglia da qualche sonno di troppo, o anche che ci apre gli occhi sul male. È una parola buona nel senso che aiuta le persone a recuperare la bontà e la bellezza della loro vita. E noi abbiamo bisogno di usare in questo modo le parole, di non usarle come chiacchiere vuote, di non usarle come giudizio affrettato, di non usarle come purtroppo a volte accade per alimentare le fake news, ma utilizzare le parole con la consapevolezza che una parola può lasciare il segno. E il segno che noi dobbiamo lasciare, soprattutto nelle nostre relazioni interpersonali, è quello di parole buone che sappiano aiutare le persone a ricominciare sempre. E a proposito di segno, lei quale segno vorrebbe lasciare Francesco Cosentino? Con questo libro mi piacerebbe lasciare qualche interrogativo, mi piacerebbe scuotere un po' soprattutto quelle persone che hanno un'idea antiquata, tradizionale della fede o quelle persone che giudicano la fede soltanto guardandola dall'esterno, guardandola in superficie, soffermandosi su aspetti secondari oppure su aspetti ecclesiali che non convincono più di tanto. E vorrei invece che le persone, leggendo questo libro, e devo dire qualche feedback in questo senso l'ho anche ricevuto, mi ha fatto molto piacere, cominciassero a sentire dentro uno scossone, a porsi qualche domanda. Questo credo che sia un segno che noi come Chiesa non dobbiamo mai smettere di lasciare, quello di creare appunto dentro lo spazio intimo delle persone qualche domanda che possa connettere poi la loro anima, nel loro cuore con il senso religioso della vita e soprattutto con il Dio di Gesù. Francesco Cosentino, autore del libro Ricominciare, parole buone per il nostro tempo. Il libro è pubblicato da San Paolo Edizioni, ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sono ritornato ad una lettura, diciamo, ti taglio un tantino più teologico. Il teologo tedesco Verbich ha appena pubblicato un libro che si chiama Credere cristianamente. È un libro di teologia, ma insomma è un libro anche di lettura abbastanza facile, nel quale egli riflette su come oggi abbiamo la necessità in qualche modo di ridire la nostra fede, quasi di ridire nuovamente il nostro credo con dei linguaggi e con delle formule che siano non soltanto più accessibili dal punto di vista comunicativo e linguistico, ma che siano anche più vicine alla vita, che possano toccare di più la vita. Non l'ho ancora finito, ma ho letto già più di cento pagine, mi sta accompagnando. E devo dire, come lettura invece, un tantino più leggera, più spirituale, ma molto profonda, c'è un testo di Carlo Carretto, che è un vecchio testo, Il Dio che viene, ma che in questi giorni è stato ripubblicato e devo dire è di una ricchezza veramente straordinaria. Sempre bello sentire e parlare di Carlo Carretto. Grazie davvero, Francesco Cosentino, e buona giornata. Grazie, grazie a voi, buona giornata.